Finisce qua il primo tempo proprio allo scadere la vigore della Mezzia si porta in vantaggio ancora sul calcio piazzato Arpaio molto nervoso il dirigente Arpaio invita i giocatori a stare calmi a stare calmi perché davvero alcune decisioni arbitrali sono state absurde come su anticipi palla sul gioco aereo dove non abbiamo visto nulla, nulla contro l'avversario e l'abito si inventava quale punizione da qui le proteste e anche sul rigore molto discutibile dato al Melfi molto discutibile comunque ci rivedremo per il secondo tempo